Aldo Iuliano, regista del film Space Monkeys. È mai stato al Torino Film Festival? No, mi manca. Prima o poi andrà. Speriamo. Col film In Giro per l'Italia, a giorni alterni, a settimane alterne, che racconta? Racconta la storia di cinque ragazzi che si ritrovano alla fine di un'estate a salutarsi e poi a giocare a queste challenge pericolose. Una sfida che è un pretesto per poi entrare nel loro mondo un po' a cavallo tra sogno e realtà, tra virtuale e reale. Aldo Iuliano, sentiamo brevemente le tre analisi dei nostri amici critici. Ludovica Ottaviani, Francesco Puma e Gian Lorenzo Franzi. Ludovica, che film è? Attenta che c'è il regista. Allora cercherò di muovermi veramente in equilibrio e qui si parla proprio di equilibrio, soprattutto tra un'estetica psichedelica veramente all'avanguardia, che ricorda molto il cinema di Gaspar Noé, però con un'analisi di una generazione che non è la generazione Z, ma la generazione Alfa. Ora sentiamo anche Gian Lorenzo Franzi e Francesco Puma e poi lei può dire tutto quel che vuole. Gian Lorenzo, il film di Iuliano. Allora, Space Monkeys è un film straordinario, uno di quei film che va visti assolutamente al cinema, perché ha un impianto visivo incredibile. E poi sta sempre, riesce a mettere insieme sia la parte virtuale che quella emotiva, perché ci sono questi cinque protagonisti, ragazzi giovanissimi, che sono di una bravura incredibile, che mettono in scena in maniera molto sincera la vacuità appunto di questa generazione Z o Alfa. Ma anche da vedere, quindi, anche per lei, Puma? No, tra il sì e il nì, cioè nel senso che ha ragione Gian Lorenzo, che è un film da vedere al cinema perché è elegante nella regia, anche nella fotografia di Daniele Cipri, però io non mi sono affezionato ai personaggi, nemmeno alla francesina Giustine, che era quella che mi ispirava di più all'inizio. Io sono contentissimo. E Samo è superato, mi sembra. Io sono contentissimo. Divide, quindi, era quello che volevo. È un viaggio nei sentimenti. C'è una quasi unione. Una quasi unione per quanto riguarda. Io come spettatore ho bisogno di un regista che si metta in gioco, perché io al cinema vado a fare un'esperienza. Se questa esperienza mi arriva attraverso un punto di vista importante, per me quel punto di vista in qualche modo va premiato. Per cui mettersi in gioco è un elemento fondamentale, è un bravo regista, è un regista che si mette sempre in gioco, senza risparmiarsi. Lei si mette sempre in gioco. Io ho fatto questo con Space Monkeys, ho provato, ho spinto l'acceleratore sul cinema e sono contento perché abbiamo autodistribuzione e alla prima giorno all'Adriano, il 28, c'erano 300 persone. Quindi io in sala ero molto contento. Quindi sostenete il cinema indipendente perché noi stiamo facendo tutto da soli. Grazie. Grazie.